RANDELLI Rischiamo la chioma, torniamo a casa, se non si fa almeno un gol, Uruguay, 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 Uruguay RANDELLI in Italia si vuole far festa, dobbiamo segnare di sfonda o di testa, senza una vittoria si ritorna rosa schieriamo i più forti e mangiamo il gol, si! Sbagliato? Ho sbagliato? Ho sbagliato? Va bene, va bene così! Scusate, si ritorna a casa, non si ritorna a Roma, perché a Roma? Che fa, secondo voi Buffolle torna a Roma o se ne va a Torino? No, non ho sbagliato, ok? è più validario pur si te è zitto